Ti mostro la ricetta per cucinare un piatto dietetico con pollo e patate lesse non fritte è un piatto light quindi inizio a sbucciare le patate io ne ho usate 600 grammi e le ho tagliate a quadratoni comunque nel frattempo che prepari le patate comincia a mettere in una padella un po' di acqua circa 300 ml perché essa deve cominciare a bollire mentre aspetti che comincia a prendere un mazzetto di prezzemolo e dividi nelle foglie da gambi devi tagliare a pezzettini i gambi del prezzemolo io dopo averli tagliati con il coltello li ho tagliati ulteriormente con una doppia mezzaluna insomma l'acqua ha ripreso a bollire quindi ci devi mettere all'interno le patate che hai preparato precedentemente assieme ad esse metti anche i gambi del prezzemolo le patate devono cuocere fino a che si ammorbidiscono e metti anche del sale in quantità qb per vedere se le patate sono cotte io ti consiglio di fare la prova forchetta se la polpa delle patate non oppone resistenza alla forchetta e quindi è morbida le patate sono cotte io come altre spezie per insaporire questo piatto light ho messo un po' di aglio questo è quello granulare in polvere è già tagliato per mescolare io ho utilizzato questa palettina per rivoltare le patate comunque a questo punto io ho messo 200 g di pollo questi sono controfiletti ma puoi utilizzare anche il petto volendo comunque cuoci con il coperchio devi tagliare con la mezzaluna le foglie del prezzemolo e quando serve se vuoi io l'ho aggiunto e metti un dito e mezzo di vino bianco comunque dovresti far cuocere per ulteriori 7 minuti il tempo di far cuocere il pollo comunque alla fine io ho messo del pepe nero macinato in polvere e il prezzemolo in foglie praticamente a crudo che hai tagliato poco fa e ti aspetto nel mio prossimo video ciao ciao